I cittadini e residenti del quartiere Pedagna di Imola, il più popoloso della città, rispondono picche al comune sulla possibilità che si possa creare una nuova, la seconda, isola ecologica per la raccolta differenziata. Un progetto risalente al 2016, ideato per avere un basso impatto paesaggistico e ambientale e ad alta automazione, che però non convince i residenti che hanno già iniziato una raccolta firme per fermarne l'iter. L'isola ecologica rientra tra le linee e gli obiettivi strategici del comune di Imola, in quanto mira proprio a migliorare la raccolta differenziata e promuovere il riuso. In questa zona infatti è previsto anche un piccolo centro del riuso, proprio per andare nella direzione dell'economia circolare. Che caratteristiche avrà questo spazio? Intanto è stato fatto un grandissimo studio per inserirlo in maniera armonica nel paesaggio. Siamo in un'area verde, in particolare siamo all'interno dell'area verde che sta tra l'attuale centrale e la viabilità, la via San Benedetto. E in questo senso è stata data grandissima cura per ridurre al massimo le superfici permeabili e quindi sfruttare la viabilità di accesso già esistente per quanto riguarda la centrale. Seconda cosa, i piccoli edifici che saranno posizionati, che sono appunto il centro di riuso, un centro di raccolta e un piccolo ufficio, di fatto rispetto alla via San Benedetto sono completamente schermati e mimetizzati attraverso una collina inerbita che mira proprio a fare in modo che l'inserimento paesaggistico sia massimo. Oltre a questo è stata fatta anche grande cura a quella che è ovviamente l'accessibilità anche per quanto riguarda i disabili ma anche il collegamento con tutta la rete ciclopedonale esistente perché data la prossimità rispetto appunto a un quartiere popoloso immaginiamo che la fruizione sia completamente diversa da quella dell'isola ecologica che si trova nella zona industriale. Attraverso proprio questa collinetta e le rampe sarà possibile arrivare in questa terrasta sopraelevata che può diventare anche un luogo in cui ad esempio le scolaresche, le famiglie possono venire anche per vedere quello che è tutto il tema del riuso e del riciclo.